un labirinto nel quale si sa dove si entra ma non dove si esce, nel quale si sa dove si esce ma non quando mi sono perso. Benvenuti alla 57esima edizione del Festival di Nuova Consonanza che si terrà rigorosamente in streaming vista la situazione che stiamo vivendo dal 27 novembre al 20 dicembre 2020. Il titolo di questa edizione del Festival è Laborintus 2.0. Prende spunto da una celebre collezione di poesie di Edoardo Sanguinetti pubblicata nella metà degli anni 60 dello scorso secolo e a partire dalla quale Luciano Berio scrisse il famoso Laborintus II. Ma non è tanto o non solo il riferimento alla figura di questi due artisti che ha ispirato il titolo del nostro Festival, quanto il fatto che il concetto di labirinto ci sembra quanto mai emblematico e affine al pensiero artistico, non solo musicale di oggi. Un pensiero che si avvale di una grande varietà di stimoli, di segni e di spunti che vengono captati in maniera diversa e personale dai compositori che li assimilano per poi elaborarli e riproporli in maniera diversa ciascuno attraverso la propria personale cifra espressiva. Il Festival si propone dunque come un viaggio nel labirinto delle suggestioni musicali del presente. Si sviluppa attraverso più di 20 appuntamenti, spesso improntati all'interazione tra musica e fatti visivi o testuali, appuntamenti che coinvolgono interpreti e musicisti creativi di livello internazionale di primo piano. Il progetto originale del Festival è stato naturalmente ripensato per poter essere realizzato e fruito a distanza. Abbiamo rinviato a tempi migliori alcuni progetti di teatro musicale da camera, anche se la dimensione teatrale era diventata in questi ultimi anni un po' una cifra caratteristica di nuova consonanza. Ma abbiamo dovuto farlo perché questi progetti richiedono la partecipazione di un gran numero di persone e naturalmente l'uso di un palcoscenico attrezzato, tutte cose che di questi tempi non è possibile avere. Ci siamo dunque concentrati su concerti e performance realizzabili in studio di registrazione e come al solito su altre attività come i concorsi, premi, incontri, conferenze. Il fatto di dover tenere il Festival a distanza impone certamente dei limiti. sia allo svolgimento che alla fruizione degli eventi. Ma tenteremo di fare, come si dice, di necessità virtù. Tenteremo di far fronte a queste limitazioni cercando di sfruttare le potenzialità del mezzo digitale. Mezzo che permette, per esempio, di godere al meglio delle sonorità spesso complesse della musica di oggi. Se infatti si dispone a casa di un impianto di ascolto di qualità relativamente buona, oppure semplicemente se si collega una buona cuffia al tablet o al pc dal quale stiamo ascoltando in concerto, si può avere un buon ascolto, addirittura ottimale, forse in alcuni casi perfino migliore dell'ascolto che si può avere in una sala da concerto. E cercheremo anche di valorizzare un altro aspetto caratteristico di questo tipo di attività, e cioè quello di poter coinvolgere persone, pubblico, che risiede anche in luoghi lontani. Tra l'altro Nuova Consonanza ha sempre avuto la caratteristica di offrire per la grande maggioranza nuove produzioni originali, quindi cose che nascono qui, cose che non si sono già viste in giro l'anno prima o il mese prima. Il fatto quindi di poterle proporre anche a chi risiede fuori, lontano da Roma, è un aspetto che cercheremo di valorizzare. Buon ascolto dunque delle nuove musiche proposte dal 57esimo Festival di Nuova Consonanza, musiche che, come si è detto, faranno riferimento alla tematica del labirinto. Labirinto da intendersi però non come un luogo nel quale perdersi nella inutile ricerca di un'uscita. Labirinto da intendersi invece come opportunità per lasciarsi andare e seguire più strade e suggestioni diverse sotto la guida delle proprie inclinazioni. Buon ascolto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.